Ciao a tutti, benvenuti in questo canale Ressunti di Storia. Sono Gio Lucaime, studio alla Magisterale di Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi parleremo della storia e del pensiero politico. Mazzini, una delle figure più importanti del pensiero politico italiano e non solo, anche a livello internazionale, quindi sia occidentale, ma soprattutto per i paesi del cosiddetto terzo mondo. Mazzini è esponente della democrazia sociale o, se vogliamo, il pensiero progressista o del riformismo, che si contrappone, lo posizioniamo ovviamente tra le sinistre, ma si contrappone al socialismo. Siamo nell'Ottocento e per Mazzini, che è anche un esponente del nazionalismo, del nazionalismo di sinistra, identifica tutto il popolo con la nazione. E quindi il pensiero di Mazzini è quello di far progredire, qui che viene il nome progressista, far progredire il popolo, gli strati inferiori della società, far progredire, far risalire la scala della società per farli accedere anche loro allo Stato insieme alle classi dirigenti tradizionali. Questo pensiero progressista si contrappone al socialismo, al socialismo, al marxismo di Marx, il quale identifica il popolo unicamente con il demos e quindi con gli strati inferiori. E quindi qui è un'ottica di dominio di classe e di lotta tra lo Stato inferiore, i proletari, con lo Stato superiore della borghesia. Ebbene, per Mazzini questo scopo, questo pensiero progressista, è possibile percorrendo la strada dell'emancipazione politica e ovviamente del riformismo sociale. La democrazia sociale di Mazzini. Innanzitutto questo sistema di governo si contrappone alla tiranide e in questo senso alla dittatura di classe. Quindi si contrappone sia al capitalismo sia al comunismo. Infatti questa società è una società pluralistica. E quindi Mazzini riesce a unire la democrazia con la libertà e soprattutto con la proprietà. Qui Mazzini si rifà a Tocqueville nel suo celebre saggio La democrazia in America, scritta in una prima edizione del 1835 e una seconda del 1840. Tocqueville, questo pensatore francese, trova in America un nuovo tipo di democrazia che non è quella che si conosce in Europa, ovvero quella sovversiva, quella rivoluzionaria, ma bensì una società pluralistica di uguali. Ebbene, caposaldo del pensiero di Mazzini è il popolo. Il popolo ovviamente è sovrano e Mazzini si batte per un suffragio universale. Principi cardini di questo pensiero, di questo pensiero democratico, sono ovviamente la libertà, l'uguaglianza e, in aggiunta, sia i diritti e i doveri politici ma anche sociali. Quindi qui il suffragio è completamente diverso dal pensiero di Marx, il quale, secondo lui, il suffragio era soltanto uno strumento della lotta di classe. E qui vediamo come la democrazia sociale di Mazzini non può che non affrontare il tema della questione sociale. E qui Mazzini abbraccia e sposa le paure che erano del liberalismo conservatore, il quale vedeva che dando potere alle masse, alle masse inalfabete, alle masse prive di educazione e priva di esperienza politica, vedevano sostanzialmente come regalare il potere ai demagoghi. E' qui che Mazzini risponde a queste paure dei liberali conservatori dando la sua proposta che è quella di una educazione e quindi in questo modo di evitare che le masse siano soggette alle tentazioni dei demagoghi. E quindi questo è un chiaro esempio del pensiero progressista, quindi di far progredire gli strati inferiori, quindi di permettergli di accedere alla sovranità. Inoltre la questione sociale, che è sposata da un'educazione, si sposa anche con una riforma economica. E qui troviamo la lotta alle disuguaglianze e alle ingiustizie di Mazzini, in particolare una lotta per un ecosistema salariato e la lotta per un associazionismo dei laboratori. Quindi in questo caso si sposa, si vede la sinistra di questo pensiero, che se vediamo è ben diverso da una sinistra, da un socialismo rivoluzionario come quello di Marx. E' bene che per Mazzini non lotta contro la proprietà, Mazzini è per permettere anche agli strati inferiori di accedervi, e quindi è contrario a un monopolio della classe dirigente, della proprietà. E quindi vi diamo la grande lugimiranza del pensiero di Mazzini, Mazzini, il quale già nell'Ottocento si fa portavoce di quel compromesso sociale che è nato tra gli anni 50, 60 e 70 in Occidente. Quel compromesso sociale il quale vediamo sostanzialmente come anche nell'Ottocento, dopo la terribile esperienza che è stata presa nel sangue della comune, ci saranno di esserci le grandi rivoluzioni degli strati inferiori. E questo perché il conflitto andrà a sfociare in un conflitto politico ed istituzionale, quindi si potranno fare le grandi riforme sociali, e quindi anche del lavoro, e la lotta alle disuguaglianze. Attraverso i partiti socialisti occidentali che hanno lasciato la bandiera rivoluzionaria, come anche nel caso del grande partito socialdemocratico tedesco, si sono andati a un'ala riformista, o se vogliamo anche progressiva, progressista. E quindi qua si spiega anche il pensiero di Lenin, però dobbiamo arrivare a 1917, il quale guarda con sfiducia ormai la socialdemocrazia tedesca e tutto il socialismo occidentale. Non crede più che loro potranno fare la rivoluzione. Ebbene, quindi per Mazzini vediamo, tornando a noi, vediamo come unisca il tema della rappresentanza, quindi del governo rappresentativo, che è nato con la rivoluzione inglese, americana e francese nel 600 e nel 700, unisca il concetto di rappresentanza politica e lo leghi con un'idea di un'uguaglianza sociale. E quindi questo pensiero progressista che fa progredire, fa emergere, permette anche alle classi inferiori di accedervi alla rappresentanza tramite un'educazione e ovviamente una lotta alle disuguaglianze, quindi emancipandone, sia politicamente, sia economicamente. Per parlare delle differenze tra Marx e Mazzini non possiamo che non partire da questa immagine. Infatti questa è la bandiera della Repubblica Romana del 1849 e vediamo che in essa, cioè la nazione, si identifica, si intreccia sia con Dio sia con il popolo. E quindi questo è un classico esempio di un nazionalismo di sinistra, dove il popolo viene a identificarsi in una nazione. Il nazionalismo non è solo un prodotto di destra, e quindi è completamente diversa dall'idea di classe universale che c'è in Marx. E soprattutto vediamo la parola Dio, quindi il riferimento alla religione, è un concetto completamente diverso dal materialismo di Marx, il quale vede la religione come un prodotto della sovrastruttura, o meglio, tutte quelle idee che la classe dominante, come l'idea di libertà, di democrazia, la stessa idea di proprietà sono frutto della classe dominante e le usa per comandare, per dominare, sulla classe dei proletari. Infatti è celebre l'affermazione di Marx, secondo il quale la religione è l'oppio dei popoli. Ma arrivando al pensiero prettamente di Marx, vediamo come il popolo è identificato nel Demos, ovvero nei proletari. Per meglio dire, i salariati, ovvero tutti coloro che nel mondo del mercato del lavoro possono cedere soltanto, possono dare come vendere la loro forza lavoro. Ma per Marzini, qui entriamo nel suo pensiero, trova un errore di tutti quanti i vari socialisti, sia quello di Marx, sia quello, possiamo dire, più utopistico. E questo errore è quello di dare a tutta la società, dare tutta la società al popolo. E qui l'esempio è quello della Comune del 1871. Infatti per Marzini il comunismo è un sistema di eguaglianza assoluta, nel quale la distribuzione del prodotto è ingiusta. Infatti il comunismo viene visto come una tirannide, che gestisce tutta quanta la società e la gestisce come uno stato assoluto, il quale nega la individualità e la proprietà. Specifichiamo meglio, Marzini non è contro la proprietà. O per meglio dire, contro il monopolio, vuole permettere anche agli strati inferiori di accedervi. Marzini ripercorre la strada che era stata di Robespierre, il quale identifica una armonia tra eguaglianza e un progresso sociale e umano. Come Robespierre anche Marzini crede nelle virtù positive del popolo e ha un'attenzione verso il benessere degli strati sociali. Secondo Marzini il comunismo non è nient'altro che un cristianesimo primitivo in aggiunta a un forte materialismo, quindi alla sua non-fede. Secondo Marzini la democrazia, e quindi la democrazia diretta, che è la bandiera del comunismo, non è nient'altro che anarchia. E qui l'esempio di nuovo ci riporta alla Comune del 1871. Il comunismo è un regime dove nega la libertà e si ripropone in forma inedita la dittatura delle vecchie caste, le quali vogliono dominare interamente la società. E quindi una versione inedita, secondo Marzini, il comunismo vuole riportare indietro gli orologi della storia. La critica sanguigna di Marzini al comunismo, che, ricordiamolo, è stata fatta negli anni 40, beh, l'Ottocento, e successivamente percorre varie tappe del suo pensiero, fino ad arrivare dopo l'esperienza della Comune. Ebbene, non può che non ricordarci le dittature totalitaristiche del XX secolo, le dittature di sinistra, quindi l'esperienza sovietica, e delle varie repubbliche che gravitavano intorno a tale regime. Quindi non possiamo non osservare una lungimiranza. E quindi la grandezza di questo pensatore, questo pensatore che è stato uno dei più grandi esponenti a livello occidentale, e quindi anche mondiale, del pensiero libero progressista. E con l'esperienza dopo il 1945, con tutta la fine del colonialismo, Mazzini è stato letto, ed è stata anche la bandiera di tutte quelle nazioni che hanno rotto le catene del sistema coloniale. Quindi questa è anche la grande forza di Mazzini, che, se vogliamo, in Occidente non è stato sempre considerato, è stato messo da parte, ha avuto un grande ruolo a livello di idee per gli stati e le nazioni del Terzo Mondo, nella loro lotta al colonialismo. Ebbene, per concludere questa chiacchierata, non posso che citare, come sempre, la mia fonte, che è stato questo libro di Massimo Salvadori, Democrazia tra... sì, tra un'idea, storia di un'idea tra un mito e realtà. e con questo vi saluto. Spero di avervi annoiato, ma non troppo.